Un 23enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri dell'Aquila che hanno dato seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale dell'Aquila. Lo straniero si sarebbe reso responsabile il 26 agosto scorso della rapina di un telefono cellulare ad un trentenne straniero dopo averlo colpito al volto con un mattarello provocando gli lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. I fatti accaduti al parco del castello sono stati chiariti dai carabinieri dopo le verifiche fatte sulla base della denuncia della vittima. Quest'ultima, all'atto dell'individuazione fotografica, ha infatti identificato il suo aggressore. Al 23enne tunisino, iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica dell'Aquila, vengono contestati reati di rapina, lesioni e porto abusivo di strumenti atti all'offesa. Il provvedimento restrittivo, richiesto ed ottenuto dal PM titolare delle indagini, è stato notificato direttamente al destinatario nella struttura carceraria di Rieti, dove si trova detenuto per una pregresse simile vicenda. Infatti, un mese prima, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia dell'Aquila effettuarono il suo arresto in flagranza di reato per l'aggressione ad un 37enne marocchino, anch'esso avvicinato nel parco cittadino e malmenato con un mattarello. Dopo la convalida dell'arresto, eseguito anche per la resistenza opposta ai carabinieri che lo avevano preso in consegna, l'arrestato è rimasto in carcere in custodia cautelare nell'attesa del processo. Attualmente, il 23enne dovrà rispondere anche della seconda aggressione contestata dagli inquirenti, la cui gravità dei fatti ha giustificato il ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere, che va ad aggiungersi a quella precedente. Nei prossimi giorni è previsto l'interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari. Grazie a tutti.